Il discorso della vittoria, che per alcuni può diventare un peso, per noi è un'ossessione positiva. È brutto perdere due finali nel giro di tre anni. Arrivare in finale e perdere contro il Champions League fa malissimo. E da lì parte anche poi la mentalità vincente. Crescere nel mondo della Juve mi ha insegnato, sin da quando ero piccolino, il diventare prima uomo che calciatore. Sempre apprendere con umiltà. È tutto all'inizio, tutto alla fine. Di eterno non c'è niente, non c'è nessuno.